Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento che potete seguire su blog sicilia.it e in televisione sul digitale terrestre al canale 14 il segnale di video regione, la tv che ci ospita e che noi sempre ringraziamo per l'affetto e l'attenzione che ha nei confronti delle nostre produzioni. La puntata di oggi è una puntata particolarmente interessante perché parliamo di una eccellenza dell'Italia, una delle cose che il mondo ci invidia, la Croce Rossa italiana, ovviamente la Croce Rossa italiana fa parte di un'organizzazione internazionale, quella della Croce Rossa, ma perché è così importante parlare in un programma regionale della Sicilia, della Croce Rossa italiana, perché quest'anno, il 2023, per la prima volta il Presidente della Croce Rossa italiana è un siciliano, anzi una cese per essere precisi e con questa battutaccia un po' etnica e un po' così do il benvenuto al Presidente Rosario Valastro. Buongiorno Presidente, benvenuto a Talk Sicilia e grazie al tempo che ci dedica perché da buon volontario, ricordiamo che tutti i componenti della Croce Rossa italiana sono volontari, non lo fanno per un reddito o per denaro, lo fanno per passione e per missione. Presidente, come si porta addosso questa Croce, i tanti impegni alla Croce Rossa italiana? Grazie intanto e ben trovati. Per me entrare in Croce Rossa è stata un'avventura che è iniziata 30 anni fa, nel 1993, quando a seguito di un'assemblea d'istituto in cui i giovani della Croce Rossa di Acireale vennero per proporci un'iniziativa di servizio, decisi di fare questa scelta. Ed è una scelta che poi ho rinnovato anno per anno, a volte con delle responsabilità crescenti. E che cosa mi ha spinto a andare sempre avanti, anno dopo anno? Il grande orgoglio di essere parte di questa associazione. Presidente, possiamo dare un po' i numeri di quello che fa la Croce Rossa italiana in Italia e nel mondo? Perché, facciamo un esempio concreto, ultimamente si è stati tre volte, se non sbaglio, tre o quattro volte in Ucraina a dare sostegno alla popolazione, mentre c'è un'Italia che manda missili, armi, c'è anche chi dà rifornimenti e sostegno umanitario, no? Guardi, allora i numeri di la Croce Rossa italiana li posso dire così in breve, siamo presenti in 668 comitati e in circa altri 900 sedi, quindi siamo presenti più o meno in 1500 comuni con un totale di quasi 160.000 volontari. Presenti ogni giorno in tutte le attività, i cittadini e le cittadine ci riconoscono per le ambulanze che guidiamo, per i pacchi spesa che distribuiamo, per le lezioni fatte nelle scuole e poi c'è tutta una serie di importanti missioni fatti in paesi esteri. Ci sono una serie di missioni di cooperazione, una trentina, poco più SPACs in tutto il mondo e poi l'impegno in Ucraina. Sono già quasi 40 le missioni che abbiamo fatto in Ucraina. Sono rimasto molto indietro, mi perdoni e mi scusa. No, ma ci mancherebbe. Non le abbiamo pubblicizzate forse bene tutte, ma sono tutte missioni in cui abbiamo portato non solo cibo, ma soprattutto altri materiali che servivano, quindi ambulanze, mezzi per la neve, cibo in scatola pronto di pronto consumo, coperte medicinali, perché è il bene che ha cominciato a scarseggiare prima. Oltre questo abbiamo contribuito a creare un centro in Romania, Suceava, che è un hub per tutte le altre organizzazioni umanitarie che portano aiuti in Ucraina. E questo è stato fatto grazie alla generosità delle persone che poi ci hanno ascoltato. Quando all'inizio un po' c'è stata una raccolta di cibi e altre con chi raccoglieva vestiti. A me capitava, intervistato, di dire che era importante in questo momento dare dei fondi. Sappiamo con quanta ritrosia, ogni tanto si danno delle donazioni alle organizzazioni, perché non si sa mai come vengono utilizzate. Noi abbiamo promesso che avremmo messo tutto online e che si sarebbe visto con le immagini quello che avevamo fatto. Adesso c'è in queste ore una nostra truppa insieme alla missione umanitaria che sta documentando tutto quello che è successo in quest'anno, perché è già passato quasi un anno dall'inizio dell'interno. Il 24 febbraio è l'anniversario dell'ingresso delle truppe russe in Ucraina. Insomma, noi non parliamo di guerra, parliamo di pace. D'altronde la storia della Croce Rossa è la storia di un servizio di volontariato a favore della gente che è colpita dalle calamità più terribili. In quali ambiti interviene la Croce Rossa soprattutto? Nella storia a me viene in mente, c'è stato a poco l'anniversario del terremoto del Belice, ricordo immagini di repertorio con le ambulanze della Croce Rossa, ma voi siete dappertutto dove c'è un'emergenza c'è la Croce Rossa. Sì, diciamo che quella dell'emergenza è la cifra della Croce Rossa. Un movimento che potesse intervenire per portare aiuto in tempo di guerra e che in tempo di pace si dedicasse, perché ci sarà sempre bisogno, diceva lui, nei disastri naturali e nelle pandemie. E queste sono state proprio le ultime cose che hanno visto gli italiani in cui la Croce Rossa è stata attivissima. Grazie ai suoi volontari è da sempre presente, Presidente, mi perdoni se l'interroppo, diciamo un po' farci un riepilogo all'attività che avete svolto in Italia negli anni del Covid, perché ricordo che anche voi, come dire, avete contribuito a far sì che il sistema sanitario pubblico non crollasse. C'è stato sin da subito un intervento con le nostre ambulanze in alto biocontenimento, che sono quelle speciali ambulanze dove chi è ammalato è messo in una sorta di postazione totalmente che non comunica, per così dire, con l'esterno e quindi si evitava in questa maniera anche la possibilità per i soccoritori di essere infettati. Quindi sin da subito questo intervento. Poi c'è stato un intervento sociale molto importante nel portare medicine e aiuti a tutte le persone sole che non potevano uscire di casa, considerati lockdown, e che non avevano nessuno che poteva aiutarli neanche a portare la spesa. Poi c'è stato un grande intervento nella campagna vaccinale. La campagna vaccinale è stata fatta in molte regioni grazie al personale anche della Croce Rossa italiana. Ma la Croce Rossa italiana non ha soltanto portato un momento di conforto, tanti momenti di conforto in Ucraina, ma è sempre stata in prima linea in Italia per le crisi naturali, per gli alluvioni, i terremoti, le alluvioni terremoti e per la crisi pandemica che in due anni ha rischiato di mettere in ginocchio la sanità italiana. Senza la Croce Rossa italiana probabilmente il sistema sarebbe andato a collasso. Cosa avete fatto durante il periodo del Covid, Presidente Balastro? Ha detto bene intanto, disastri e pandemie sono la cifra dell'intervento della Croce Rossa italiana sin dalla sua fondazione. Durante il Covid noi abbiamo avuto immediatamente un ruolo importante con le nostre ambulanze d'alto biocontenimento, in modo da assicurare il trasporto sicuro delle persone che erano infettate da Covid presso i presidi ospedalieri. Poi c'è stata tutta un'attività di carattere sociale importantissimo. Ricordate che con lockdown non era possibile chiaramente uscire da casa e c'erano un sacco di persone sole, vulnerabili, che non avevano nessuno che portasse la spesa o i farmaci, così come c'erano famiglie di persone che avevano perso il lavoro e quindi sarà tutta questa attività anche di distribuzione di buone spesa e di viveri o di farmaci. Infine, non per importanza, c'è stato il contributo fattivo alla campagna vaccinale. In moltissime regioni d'Italia, in moltissimi hub vaccinali, erano presenti i volontari della Croce Rossa in diversi ruoli, ma sempre finalizzati a quella che era proprio la riuscita della campagna vaccinale, in modo tale che si uscisse dall'emergenza. Peraltro, Presidente, non vorrei toccare un tasto dolente, ma in realtà anche la Croce Rossa ha pagato un prezzo altissimo in termini di vita umane durante il periodo del lockdown. Perché è vero che avete preso tutte le precauzioni, però quel virus maledetto comunque non ha lasciato tregua e chi era in prima linea come voi ha pagato un prezzo altissimo. Sì, abbiamo pagato un prezzo altissimo, soprattutto nelle prime regioni ad essere esposte, quindi anche quelle del Nord Italia. Abbiamo avuto dei volontari che hanno perso la vita anche in servizio. Ricordate che all'inizio era anche difficile avere le mascherine, c'è stata una difficoltà impressionante nel reperire i dispositivi di protezione. E poi comunque i vostri volontari non si sono formati, anche se non c'erano i presidi sanitari, non si sono formati. Questo è il senso del donare, praticamente. No, non si sono mai fermati, ma si sono formati. Mi permette il gioco di parole, nel senso che comunque abbiamo subito messo online tutte quelle che erano le necessità per dare una formazione a tutte le persone che poi sarebbero state impegnate. Vorrei ricordare che si sono unite ai volontari della Croce Rossa italiana durante quell'anno altre 50.000 persone non volontari della Croce Rossa italiana, ma che sono diventati volontari temporanei. Quindi ci hanno dato una mano in questa azione rivolta alla popolazione. Ma possiamo dire che la Croce Rossa italiana dimostra, quando mai ce ne fosse bisogno, che in realtà proprio nei momenti di difficoltà l'Italia e gli italiani riescono a mostrare il loro volto miglior. Sì, assolutamente sì. Di questo ne siamo convinti e consapevoli, tant'è che anche dopo questi momenti di crisi noi abbiamo un aumento delle iscrizioni dei volontari. C'è senz'altro una faccia di quella bella Italia dove persone adulti, persone giovani si danno da fare davvero in ogni circostanza. Ci vuole poi sempre di ricordarlo alle istituzioni che noi ci siamo anche dopo che finiscono questi momenti di disastro. Ma a proposito, mi perdoni la domanda che può sembrare un po' indiscreta a gambatesa, ma assolutamente non lo è. È soltanto per fare capire a chi ci ascolta come funziona questa grande macchina di solidarietà che è la Croce Rossa italiana. Il bilancio della Croce Rossa italiana come si compone? Ci ha dei contributi allo Stato? Ci sono delle la macchina della Croce Rossa italiana. La Croce Rossa italiana è organizzata in tre livelli. Il livello locale, quindi di tutti i comitati territoriali, quelli dove ci stanno le volontari e volontari che i nostri cittadini conoscono, è tutto autofinanziato. Quindi i comitati sul territorio non ricevono soldi da nessuno. Chiaramente possono convenzionarsi con enti pubblici e privati per i servizi che rendono, ma in realtà sono assolutamente autonomi e non hanno soldi e fondi da parte dello Stato. Quindi vivono di quelle che sono poi anche le donazioni dei cittadini. Per quanto riguarda il livello nazionale e regionale, la Croce Rossa italiana riceve un contributo dallo Stato per i servizi che rende in convenzione, soprattutto negli interventi in emergenza e nelle attività usiliarie alle forze armate. Per questo appunto c'è un contributo rendicontato e verificato da un collegio dei revisori e da un magistrato della Corte dei Conti e parallelamente a questo contributo ci sono delle donazioni fatte da cittadini, ma anche da aziende, da imprese che scelgono la Croce Rossa italiana per l'integrità dei suoi bilanci e della sua azione e per l'efficacia dell'azione che viene cresa sul territorio nazionale ed internazionale. Allora mi permetta di fare un piccolo spoiler, ovviamente ogni centesimo donato alla Croce Rossa italiana è un centesimo investito bene perché significa rafforzare quella che è la macchina di solidarietà e di benevolenza, di grande affetto che abbraccia tutti gli italiani e non solo come la Croce Rossa italiana presieduta dal Presidente Valastro lo sta dimostrando in questi giorni, in queste ore anche con l'impegno in Ucraina. Ora però vorrei andare un po' più sul personale se mi permette, o come diceva il Presidente, il Cavaliere di un tempo se mi consente, andiamo un po' sul personale Presidente Valastro. Cioè uno immagina il Presidente di una grandissima organizzazione nazionale che cammina con l'auto blu, che arriva scortato, però insomma lei mi ha detto che cammina in autobus, cioè lei lavora, spieghiamo a chi ci ascolta, lei è il Presidente nazionale di Croce Rossa italiana, però continua a lavorare da Cireale dove ha il suo lavoro all'Inps, però non ha l'auto blu lei, non gliel'hanno data o ha rifiutata? Non rientra la logica alla Croce Rossa italiana. No, guardi, intanto come ha detto lei all'inizio da statuto tutte le cariche associative sono ricoperte esclusivamente da volontari, quindi ciascuno di noi deve chiaramente continuare il proprio lavoro e alla propria famiglia, la propria casa e tutte le incompense giornaliere come qualsiasi padre o madre di famiglia. Io ogni mattina normalmente vado a lavoro, se devo andare a Roma magari ho la possibilità di qualche permesso, vado a lavoro in autobus, preferisco il mezzo pubblico perché ho la comunità. Presidente, in Italia una macchina blu non la negano a nessuno, ma io tanto ormai l'ho capito come ragionate voi, se dovessero darvi l'autoblu voi la vendete e usate soldi per comprare ambulanze o per comprare gli fornimenti, mi pare di avere capito che questa è la cifra, la Croce Rossa. Guarda, autoblu non ce n'è, ci sono delle auto magari bianche e ci sono anche a Roma che se serve muoversi da un posto a un altro, le utilizziamo, questo naturalmente sì, come i nostri presidenti sul territorio che si muovono per motivi di servizio, i nostri volontari. Quando si vede una macchina di Croce Rossa c'è sempre un servizio dietro, non un accompagnamento di una personalità da un posto a un altro. Sì, ma infatti Presidente, la mia non voleva essere una provocazione, era semplicemente un endorsement per far notare come dire che ci sono luoghi istituzionali in Italia, perché la Croce Rossa è un'istituzione dove c'è anche il grande rispetto del denaro pubblico e del denaro dei privati, noi sappiamo che ogni centesimo donato alla Croce Rossa viene ben speso perché oltretutto c'è un controllo mortoferro oppure da parte della magistratura contabile della Corte dei Conti e questo sentire, questo suo sentirsi ancora siciliano così ancorato alla terra e cosa le dà in più, come dire, essere siciliani, noi che siamo sempre così colpiti dai maremoti, dai terremoti, c'è come dire un plus sentimentale nell'avere questa carica tanto importante da ricoprire? Senz'altro è un onore enorme, una cosa che non avrei potuto immaginare, non dico 30 anni fa ma neanche l'anno scorso, quindi è certamente un onore enorme. Però lei l'anno scorso era Vice Presidente, era arrivato lì comunque. Ho fatto sei anni da Vice Presidente Vicario e l'essere siciliano sì, noi siamo in una terra che comunque ha conosciuto e conosce, purtroppo ha conosciuto dei disastri ma non soltanto, ha conosciuto anche povertà, ha conosciuto anche importanti flussi migratori, ma io ho sempre visto e sono sempre stato in mezzo a colleghi volontari che da qualsiasi estrazione sociale si mettevano la divisa togliendosi il grembiule, la toga, la giacca o la cravatta e andavano a fare servizio pensando prima alle persone che avevano più bisogno. Mi è stato insegnato questo quando sono entrati in Croce Rossa e una delle gioie più grandi recentemente sono state le telefonate di tutti anche gli ex volontari che adulti 30 anni fa mi hanno insegnato tantissime cose per diventare, per fare il volontario in mezzo alla gente e io ritengo che il servizio che ho oggi, per quanto sia un servizio straordinario, un grande onore, quello che vogliamo, è un servizio come un altro e il mio obiettivo è dire questo ai volontari. Oggi un volontario guida l'ambulanza e io sono qui come Presidente a pagare la Croce Rossa. Domani sarà magari il contrario, perché comunque ognuno mette a disposizione dell'associazione i talenti, la disponibilità che c'è in quel momento. Diciamo che se ognuno fa la sua parte rispetto a quello che sa fare tutti viviamo in un mondo migliore. Presidente, io la ringrazio di questa bellissima chiacchierata. Un'ultima battuta poi la saluto e la lascio ai suoi impegni anche familiari, perché c'è una famiglia anche da portare avanti. Mi dicono che lei si sia particolarmente commosso per una telefonata o per un messaggio aguri da parte del nostro capo dello Stato, il Presidente Sergio Martarella, che diciamo da siciliano a siciliano, dalle due sponde della Sicilia c'è un Presidente della Repubblica e un Presidente della Croce Rossa. È una bella congiuntura astrale, no? Sì, certo, è una bella congiuntura. Io ho avuto l'opportunità di parlare con il Presidente della Repubblica e di aver l'onore di confrontarmi con lui varie volte in questi anni. Ho trovato sempre lui una persona che ha un rispetto della dignità umana che è assolutamente straordinario. Tutti noi ci accorgiamo che ogni volta che il Presidente della Repubblica parla lo fa solo per due motivi. Per difendere le garanzie costituzionali e per difendere la dignità dell'uomo. Sono le volte in cui parla, parla in questo senso. E la sua parola è pesante proprio perché è centellinata. E devo dire che quando è venuto, quando ci ha ricevuto lo scorso anno per la giornata mondiale o quando è venuto a trovarci per la giornata contro le droghe, ha sempre manifestato una grande vicinanza. Lui è l'altro patrono della Croce Rossa italiana, quindi è un po' come il nostro papà. In lui, devo dire, a lui ho reso il primo e più deferente saluto iniziando questo incarico, proprio per la testimonianza per l'alto magistero che lui sta portando avanti. Grazie Presidente. Quindi, dell'augurarle in bocca al lupo e dell'augurare in bocca al lupo a tutti gli uomini e alle donne della Croce Rossa italiana, io la ringrazio Presidente Balastro per averci dedicato questi 24 minuti e per averci raccontato una bella pagina della nostra Italia e della nostra Sicilia, visto che comunque siamo in collegamento tra Palermo e Acireale in questo momento. Un ultimo saluto, Presidente, ai nostri telespettatori. Grazie, grazie a tutti, soprattutto per la fiducia che avete in noi, la fiducia nella competenza e nell'azione di tutte le volontarie e volontari, la fiducia che date quando consegnate anche un euro di donazione, e la fiducia che ci date quando c'è quel sorriso, quella pacca sulla spalla, che sono importanti anche dopo un servizio di volontariato molto pesante. Quindi, grazie a tutti per essere con noi la parte di un'Italia che aiuta. Ecco, allora, per aiutare l'Italia che aiuta, ricordatevi che c'è sempre un modo e un motivo serio per fare delle donazioni alla Croce Rossa italiana. Questo non è uno spot pubblicitario, questa è la vita reale. Grazie ancora, Presidente Valastro, e arrivederci a tutti alla prossima puntata di Talk Sicilia.